In Italy Special Edition 2021, siamo nello stand Dr. Wine Collection e abbiamo da assaggiare un vino nuovo di zecca, la prima uscita, si chiama Valluna, è un'Emilia Rosso IGT del 2019, prodotto dalle cantine Romagnoli. Siamo in provincia di Piacenza, quindi a Vigolzone, e questo è un vino veramente fatto in modo un po' rivoluzionario, perché è 50% barbara e 50% vino nero, quindi un uvaggio abbastanza inconsueto. Il colore è un vino piuttosto carico, ma non così intenso, non così buco, il vino nero fa la sua parte in questo senso qui. I profumi sono dei profumi complessi, che mettono insieme sia i piccoli frutti, come la fagolina di bosco e ribes, sia alcuni aspetti che invece sono più tipici della barbara, come ad esempio la viola, che è uno dei conoscimenti più classici. Sentiamo il sapore, un vino molto elegante, i tannini sono vellutati, estremamente composti, levigati potremmo dire in termini sommelieristici, una bellissima acidità, una persistenza notevole, notevole, è un vino molto elegante, che potrà invecchiare a lungo con grande soddisfazione per chi lo verrà.